La donna, legata da vincoli di parentela con ambienti mafiosi messinesi, era già stata destinataria di un analogo sequestro il mese scorso durante verifiche effettuate alla DIA su società che avevano richiesto finanziamenti al Decreto Cura Italia. La somma indebitamente percepita era di 245 mila euro. Le successive investigazioni hanno poi evidenziato che per ottenere benefici economici del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, l'indagata avrebbe indicato per gli anni dal 2016 al 2021 la disponibilità di superfici agrarie di cui non poteva legittimamente disporre, riuscendo ad ottenere ulteriori finanziamenti per 405 mila euro. Questa è la cifra oggetto del provvedimento di sequestro preventivo che riguarda un agriturismo con struttura ricettiva, disposto dal Tribunale di Enna che ipotizzi il reato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. Grazie. 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 Grazie.